Buongiorno a tutti e come sempre benvenuti ad un nuovo Astro Caffè da Passare Insieme. È di nuovo domenica e come tutte le domeniche io e il buon Victor qui vi raccontiamo di qualche leggenda metropolitana. Ora, nelle puntate precedenti abbiamo parlato del caso di Roswell, dei cerchi nel campo di grano e la volta scorsa del triangolo delle Bermuda. O perlomeno io ne ho parlato visto che qualcuno qui aveva paura del triangolo delle Bermuda. Comunque, questa volta, dato che si avvicina a San Valentino, volevamo essere anche noi un po' più romantici e in tema, visto che tutti ne parlano. Quindi abbiamo deciso di parlarvi delle leggende metropolitane intorno alla masturbazione. Ora, lo so cosa state pensando. Adrian, ma non ci sono leggende metropolitane intorno a questo. Siamo nel 2017. Sì, lo so. Sembra incredibile, vero? Però ancora ci sono persone che pensano che se ti masturbi, in qualche modo o ti casca, o ti cresce e diventa di 4 metri, o ti diventano i palmi delle mani piene di peli, o mille altre cose. Perché nonostante siamo nell'età di internet e nonostante siamo con alle spalle un intero secolo di progressi nel campo di psicologia e di fisiologia e di biologia, di come funzioniamo noi come umani e di come funziona la nostra sessualità, in qualche modo tutte queste informazioni non sono passate, mentre quello che è passato invece è il grosso delle cazzate a riguardo. Anche perché ci sono tantissime persone e associazioni che si fanno un mazzo tanto per fare divulgazione di qualità nel campo dell'educazione sessuale, ma in qualche modo ci troviamo anche con politici che invece di puntare il faro dell'attenzione e le casse dello Stato verso le loro attività, creano cose come il Fertility Day. Vi ricordate il Fertility Day, vero? Comunque, per riuscire a scalare questa montagna di cacca che ci siamo prefissati di scalare per mostrarvi alcuni dei stereotipi e delle leggende metropolitane intorno alla masturbazione, e ci limitiamo solo ad alcune perché è gigantesca questa montagna, iniziamo da una domanda facile facile riguardo in generale al nostro rapporto con la natura. Perché quello che ci chiediamo è, la masturbazione è naturale? E probabilmente qualcuno di voi riguarda questa domanda avrà un senso di déjà vu, perché probabilmente l'avrete già sentita dire, la frase di è naturale riguarda un po' di tutto. È una delle cose che ci chiediamo da sempre, anche perché è un po' una caratteristica di noi umani quella di cercare di definirci e costruire la nostra identità in relazione a qualcosa o qualcuno che sta fuori da noi. Allo stesso modo abbiamo creato la divisione tra il mondo degli umani e il mondo naturale, che sta fuori dal mondo che abbiamo creato e cose che facciamo noi o le nostre mani. Questa divisione è fondamentale anche per capire quello che ci appiccichiamo sopra, quindi per esempio il senso morale di cosa è giusto e cosa è sbagliato è sempre andato di pari passo anche con il concetto di cosa è naturale e cosa non è naturale. Solo che nel tempo questa cosa si è sviluppata moltissimo e per esempio nell'arco della nostra storia abbiamo ritenuto un po' di tutto, dal fatto che portare i pantaloni fosse non naturale e sbagliato al portare i pantaloni è cosa giusta e buona e non portare i pantaloni è cosa sbagliata e anormale. Per cui è complicato, non sorprendentemente immagino. Ora, tutto questo concetto di noi e natura è molto più vasto e molto più complesso di quanto posso rendere merito in questo video. Quindi se volete sotto vi lascio dei link a pensatori, filosofi, scienziati che hanno affrontato questo argomento e continuano ad affrontarlo e poi magari ci torneremo sopra, però vi ho raccontato questa cosa perché è fondamentale da capire perché così avete un'idea di come nascono i miti di cui parleremo. Perché se all'apparenza sembrano tutte cose molto superficiali, in realtà hanno radici molto profonde e molto umane perché fanno parte del modo in cui noi viviamo questa continua divisione. Ora, al di là del dibattito molto più ampio su questo argomento, quello che cerchiamo di capire in questo caso particolare è se la masturbazione è qualcosa che vediamo solo nel caso degli umani oppure se è un atteggiamento che ritroviamo anche nel resto del regno animale. E la risposta è che troviamo esempi di masturbazione anche in tantissimi altri casi del regno animale, da pipistrelli ai delfini, dagli elefanti fino ai trichechi e da piccoli reuditori fino al caso delle scimmie. Questo ci riguarda molto da vicino perché condividiamo molto del nostro DNA e della nostra storia evolutiva. Noi non siamo solo discendenti delle scimmie, noi siamo un tipo di scimmia e condividiamo molto della storia evolutiva con gli altri cugini che abbiamo nel regno animale. E nel caso delle scimmie vediamo molti dei atteggiamenti che ritroviamo anche negli umani. Sia perché siamo entrambi animali sociali e quindi la sessualità non vale soltanto direttamente per la riproduzione, ma anche un valore di coesione, di creare gruppi migliori, ma anche perché la masturbazione è presente anche solo perché è piacevole. E questo ci porta alla grande domanda in questo caso. Perché la masturbazione dovrebbe essere stata selezionata dal punto di vista evolutivo? Qual è il vantaggio dell'avere la masturbazione? Ora, ci sono diverse possibili spiegazioni. Una di queste per esempio riguarda la salute dei spermatozoi, perché quelli più giovani sembrano avere più successo nel riuscire a fecondare gli ovuli, quindi è possibile che in natura la masturbazione si sia diffusa anche per permettere ai maschi di avere sempre una scorta di spermatozoi freschi appena sfornati. Però ci tenevo a sottolineare che gli umani sono animali molto sociali e la nostra sopravvivenza come singoli dipende dalla sopravvivenza del gruppo. Quindi la sessualità, inclusa la masturbazione con tutti i vantaggi che ha per la sessualità, ma anche per darsi piacere da soli o togliere l'attenzione, è migliore. Ora, se guardiamo la storia dell'umanità, troviamo un sacco di esempi di masturbazione già dai tempi della preistoria, quindi è una cosa che ha sempre fatto parte della nostra sessualità e cultura e storia. Quello che è interessante notare è quanto è cambiato il nostro atteggiamento a riguardo. Per esempio, se guardiamo all'età antica e poi al medioevo, all'età moderna, abbiamo cambiato moltissimo il modo di vivere la nostra sessualità. Durante l'età antica era tutto un po' più rilassato, anche per quanto riguarda cose molto più promiscue. Una delle cose interessanti riguardo alla masturbazione è che, per esempio, per sumeri e anche antichi egizi, veniva visto quasi come un atteggiamento divino, perché l'idea di produrre sperma, che era fondamentale per ottenere la vita, era visto quasi come un atteggiamento che imitava i dei e la creazione del mondo. Per quanto riguarda i greci era visto come un atteggiamento abbastanza sano, anche perché portava a una diminuzione di stress e alleviava l'attenzione, specialmente per quanto riguarda giovani che non potevano fare tanto sesso. E in generale era visto come una cosa normale. C'è anche un racconto divertente di Diogene che viene visto in piazza mentre si masturba e quando gli viene chiesto se era qualcosa di negativo, qualcosa di indecente da fare, Diogene risponde che, beh, magari potessi sfregarmi la pancia e farmi passare la fame allo stesso modo. Quindi, insomma, non era visto come stigmatizzato. Nell'età romana, per esempio, per quanto riguardava i romani, era visto come sia accettabile, anche se era più una cosa da schiavi, non tanto sesso nobile come per i patrizi. Ora, quello che cambia durante l'età medioevale riguarda principalmente la religione. Ehi, piccola parentesi, noi stiamo parlando della tradizione occidentale europea, ma sarebbe molto più affascinante, ma servirebbero 5-6 altri video per parlare della masturbazione in generale, il modo in cui viene vista, anche in tutte le altre culture nel mondo, dalle Americhe fino al Giappone o le civiltà alborigene, eccetera, eccetera. Quindi, in questo caso, ci limitiamo alla tradizione europea. Chiusa parentesi. Comunque, quello che succede è che dopo il successo del cristianesimo, la morale che passa, in generale, si lega a tanti altri aspetti del cristianesimo. Non solo perché viene visto come un atteggiamento negativo ed egoista, perché riguarda un piacere che dai solo a te stesso, ma lo sperma è sacro perché serve per produrre la vita. Solo che in questo caso non è imitazione dei dei, eccetera, eccetera. In questo caso, devi masturbarti, cioè devi fare sesso e usare lo sperma solo per produrre altra vita. Quindi, se tu ti masturbi, non solo è un crimine in qualche modo, perché sei molto egoista e ti dai piacere, un piacere materiale, terreno, quando dovresti aspirare un piacere divino, però in realtà sprechi sperma che serve appunto, Dio te l'ha dato per ottenere altre versioni più piccole di te. Però, nonostante tutti i limiti del medioevo, la vera escalation nell'opinione negativa intorno alla masturbazione arriva dall'età della ragione in poi. Di quando gli intellettuali dell'epoca iniziano a ragionare intorno all'educazione, all'igiene e di come creare la persona, il cittadino, modello per la nuova società, quella che doveva essere la società della ragione. E quindi, in questo caso, la società della ragione doveva essere fondata sulla ragione e doveva regolamentare tutto. E in questo caso doveva essere assolutamente regolamentata anche la vita sessuale, che, come tale, come espressione, se vuoi, irrazionale, in qualche modo animale, istintuale, era visto come molto bassa e molto lontana da quella che era l'età della ragione. E quindi si cercava di ottenere una categoria di cose normali e accettabili, poi tutte le altre cose animali e sbagliate. In questo periodo nascono anche le scienze moderne, nasce la medicina moderna, inizia a fare i primi passi la psicologia, e tutte queste nuove scienze si preoccupano di come ottenere la persona modello fondante della nuova società. E iniziano a esserci anche i manicomi, in cui vengono rinchiusi tutti quelli che, secondo le nuove scienze, non sono adatti a vivere nella società, perché, per una ragione o l'altra, sono appunto sbagliati o sono malati. Alcuni lettori che vi consiglio assolutamente di quest'epoca sono del Marchese de Sade, che parla della sessualità, però in un'epoca in cui lui vedeva le persone che andavano in piazza ed esultavano davanti alla decapitazione di tutti i giorni, mentre lui veniva condannato perché parlava dei piaceri sessuali. Alcuni dei grandi luminari che hanno elencato gli effetti negativi, terribili, che può portare alla masturbazione sono, per esempio, Baltasar Becker, Robert James, Samuel Augusti So, Benjamin Rush, James Springer White e Adam Clark. In realtà ce ne sono molti altri, però vi ho fatto solo una selezione di letture se volete approfondire la storia di quest'epoca e sotto trovate il link, però l'idea di base da parte di questi autori è che la masturbazione toglie in qualche modo la linfa vitale e quindi porta l'organismo a pian piano morire a soffrire di tutte le possibili piaghe del mondo. Infatti non è un caso che le piaghe che vedete qui allencate sono molto apocalittiche, perché l'atteggiamento da parte di questi autori era molto apocalittico in questo senso. C'erano anche tanti pamflet, disegni dell'epoca in cui si mostravano giovani in fin di vita, con pustole ovunque, e sotto c'era scritto guardate questo giovane che si è masturbato ed ora sta morendo tragicamente e i suoi genitori sono disperati perché non sanno cosa fare. E appunto i genitori sono molto centrali nella relazione da parte di questi autori perché riguarda molto l'educazione e quello che è più tragico delle loro opere non è tanto l'elenco apocalittico di tanti effetti negativi della masturbazione, ma quello che loro propongono come cura. E alle volte capita che persone accusate di masturbazione vengono portate in manicomio, dove muoiono per mille altre ragioni collegate alle situazioni presenti all'interno dei manicomi. Oltre a proposte relativamente innocenti come tanta attività fisica in modo che poi i ragazzi si stanchino e non abbiano le forze per masturbarsi, come se avesse mai funzionato, cosa tra l'altro proposta anche da Robert Baden Powell che fu il fondatore per esempio degli scout, era molto contrario anche lui riguardo alla masturbazione, però in generale le cose peggiori riguardavano cinture di castità, riguardavano cinture con cui legare i ragazzi, specialmente bambini, a letto per non fargli toccare i propri genitali, posizioni in cui andava bene dormire, posizioni in cui non bisognava dormire, altri atteggiamenti come per esempio non incrociare le gambe, perché anche quello poteva permettere di sentire piacere se il pene era in mezzo, oppure per esempio c'era molta attenzione a creare pantaloni, specialmente per ragazzi in età scolare, in modo che quando mettevano le mani in tasca non potevano arrivare al pene. Però abbiamo pensato proprio a tutto, era incredibile quanto tempo passavano gli adulti a pensare ai modi in cui i ragazzi potevano masturbarsi. Tra l'altro notate una cosa interessante, molta attenzione all'epoca veniva posta riguardo alla masturbazione maschile, perché riguardo alle donne si pensava che non potessero provare molto piacere sessuale senza il contributo di un uomo. Senza la presenza di un uomo, come fa una donna a trovare un orgasmo? E in realtà è interessante perché ho sempre pensato fosse buffo il fatto che le donne avessero convinto tutti gli uomini dell'epoca che sì, senza di loro era impossibile ottenere un orgasmo, quindi loro erano innocenti, non potevano in alcun modo masturbarsi. Sì. Comunque, al di là delle battute, c'è un film molto carino che si chiama Isteria, se non l'avete mai visto, in cui si narra parte di questa storia dell'età vittoriana e si parla dell'idea che in qualche modo le donne soffrissero di Isteria e che poteva essere curata grazie alla masturbazione da parte di oggetti come i vibratori. E nasce l'idea di vibratore come la conosciamo. È molto bellino, è una comedia veramente ben recitata, ve la consiglio assolutamente. Tra l'altro, a proposito di consigli, se vi capita di andare a Praga, trovate un museo che parla proprio di queste cose e all'interno del museo c'è questa cosa in particolare che è un sistema che veniva legato intorno al pene e poi con un filo veniva portato verso una centralina che stava nella stanza dei genitori e quindi i genitori avevano questa piccola centralina con un filo che portava al pene del figlio che si trovava nel letto e nel caso in cui il pene diventava eretto avveniva un contatto elettrico che faceva suonare l'allarme nella stanza dei genitori. Vi immaginate la scena ai genitori che si alzano oh mio Dio che succede il nostro figlio ha un'erezione oh mio Dio l'orrore l'orrore un'erezione a proposito però dell'epoca uno dei personaggi peggiori in questo senso fu John Harvey Kellogg anche lui parlava in tono molto apocalittico per quanto riguarda gli effetti negativi della masturbazione ma le sue proposte erano assolutamente peggiori si partiva da shock elettrico fino a infibolazione cintura di castità camicia di forza presenza in manicomio per diversi mesi e infine persino operazioni con rimozione dei genitali oppure la circoncisione dei maschi senza anestesia in modo che poi i ragazzi si ricordino una sensazione spiacevole per quanto riguarda il pene di dolore e non di piacere durante la prima metà del novecento i medici iniziano a mettere sempre più in discussione tutti questi miti riguardo alla sessualità e riguardo alla masturbazione ma il vero salto di qualità per quanto riguarda la nostra comprensione della sessualità e di cos'è normale specialmente per quanto riguarda la comprensione da parte del pubblico della propria sessualità e della portata della sessualità umana arriva con Kinsey negli anni 60 che intervistò migliaia di persone riguardo alla loro sessualità e davvero getto le basi non solo per la comprensione attuale della sessualità umana ma anche per il dialogo pubblico riguardo alla sessualità umana perché poi dopo una volta pubblicati questi libri che tra l'altro suscitarono dei scandali giganteschi crearono appunto le basi per il dialogo che dagli anni 60 continua riguardo a cos'è normale e cos'è accettabile e che dobbiamo portare avanti anche noi oggi a questo proposito tra l'altro vi consiglio assolutamente di vedere il film con Liam Ninson sulla vita di Kinsey e sulle sue ricerche perché se non volete leggere direttamente le sue ricerche vi daranno comunque una buona idea di quale è stata la sua importanza e le importanze dei suoi studi ora finita questa rapida scorpacciata storica riguardo a questo argomento e vi assicuro che abbiamo solo grattato la superficie prima di vedere quali sono le leggende metropolitane che tuttora sopravvivono riguardo a questo vediamo quali sono gli effetti benefici della masturbazione che abbiamo già scoperto quindi quelli che sto per elencarvi sono gli effetti positivi che conosciamo dal punto di vista medico e psicologico riguardo a un'attività regolare di masturbazione prima di tutto durante la masturbazione nel vostro cervello viene rilasciato un vero e proprio cocktail dal punto di vista ormonale per esempio viene rilasciata dopamina aumenta la sensazione di buon umore diminuisce lo stress poi viene rilasciata un'alta quantità di endorfine e queste diminuiscono la sensazione del dolore quindi per esempio è consigliato alle ragazze se avete dolori e crampi durante le mestruazioni perché questo può alleviare un po' i sintomi delle mestruazioni poi viene rilasciata l'ossitocina che contribuisce ad avere un'opinione migliore di se stessi e una sensazione più piacevole riguardo al proprio corpo e quindi contribuisce a una sensazione migliore di fiducia e stima di se stessi viene rilasciata anche prolattina e questo contribuisce a un sonno di qualità migliore quindi se avete problemi a dormire questo è un ottimo modo per dormire meglio in generale tutto questo cocktail contribuisce anche a migliorare la memoria subito dopo gli orgasmi e ci sono persone che hanno mostrato poi nei studi di come dopo essersi masturbati riescono a ricordarsi meglio le cose quando hanno studiato quindi se dovete affrontare esami molto difficili questo è un ottimo modo per affrontarli in maniera anche spassosa e divertente alleviando molto della tensione dello stress e questo è solo l'inizio perché oltre a questo abbiamo un aumento dei globuli bianchi quindi un impatto positivo per quanto riguarda il sistema immunitario nel caso dei maschi un'attività regolare della prostata diminuisce i rischi di malattie e di tumori per esempio alla prostata nel caso delle donne migliora la qualità della flora batterica quindi la salute generale della vagina inoltre la masturbazione regolare ha un effetto molto positivo per entrambi i sessi per quanto riguarda poi le loro performance a letto con il proprio partner prima di tutto perché i muscoli pervici specialmente in età adulta quando comunque facciamo meno movimento o comunque molto meno allenamento non solo ma migliora la conoscenza che abbiamo del nostro corpo e di come proviamo noi piacere e questo ovviamente ha delle repercussioni molto positive ovviamente anche per quanto riguarda il sesso con altri partner ma anche in generale per sapere come proviamo piacere e come darci piacere dopodiché migliora anche il flusso del sangue e questo ovviamente si collega alla salute del cuore che si collega a sua volta a una marea di altri effetti positivi legati alla salute del cuore infine permette anche di bruciare molte calorie specialmente in sessioni da 15 minuti o più e tra l'altro la lunga durata è fondamentale anche per migliorare le prestazioni a letto perché allenarsi a durare di più migliora anche la capacità di durare di più a letto ovviamente ci sono anche delle possibili controindicazioni e effetti negativi ma sono legati più che altro all'atteggiamento compulsivo che si può avere che però vale più che altro per tutti gli atteggiamenti che abbiamo per esempio mangiare sano è ottimo masturbarsi è ottimo mangiare di continuo no, masturbarsi di continuo no ma non è qualcosa legato alla masturbazione non è tanto problema della masturbazione è un atteggiamento compulsivo ossessivo che in generale ci proibisce di continuare con la vita di tutti i giorni quindi se per esempio non riesci a smettere di masturbarti e vorresti andare al lavoro ma non ce la fai proprio e questo ti impedisce di avere una vita normale o per esempio se non riesci ad avere un controllo di quando vorresti masturbarti e quando no in realtà riguarda situazioni molto particolari in cui ha bisogno per esempio di una consultazione da parte di un medico e in generale questa cosa vale per tutto quello che ho detto nel video quindi se avete delle domande che hanno a che vedere con situazioni cliniche o con la vostra salute non state a cercare su internet o su qualcuno che parla con un peluche su un video su youtube andate a chiedere al vostro medico quindi per qualsiasi opinione medica davvero andate a chiedere al vostro medico non vi fidate di quello che dicono in giro a altri o avete sentito dire a qualcuno perché ne va davvero della vostra salute non solo ma è importante andare dal proprio medico perché il vostro medico conosce voi conosce la vostra salute la vostra storia clinica quindi può consigliarvi qualcosa in base alla vostra storia e chi siete voi come appunto persona e come fisico ed in conclusione ora che conoscete la storia dietro e conoscete anche gli effetti benefici della masturbazione possiamo vedere insieme quali sono le 10 leggende metropolitane che ancora sopravvivono a riguardo e tra l'altro a proposito di sopravvivenza probabilmente avete visto che è giorno c'è luce c'è un sacco di luce sono le 9 passate in realtà io ho iniziato a fare questo video verso le 10 e quindi ho passato tutta la nottata e la mattinata una buona parte della mattinata a fare questo video ho fatto ore di video non ho idea neanche di quanto di questo sopravviverà all'interno dei video finale perché cercherò di tenerlo entro 20 minuti non ho idea di dove taglierò probabilmente taglierò in tutta la storia quindi se vedete che vi ho raccontato la storia dietro la masturbazione in una versione di 5 minuti probabilmente è lì che ho tagliato perché ho raccontato qualcosa a me un'ora e mezza di storia parlando di mitologie e tutto il resto comunque tralasciando questo tornando a noi se no divago ancora comunque per evitare altre divagazioni cercherò di leggere direttamente i miti così cerco di tenere il passo e non distrarmi troppo anche se probabilmente mi distrarò in qualche modo tienimi d'occhio dimmi qualcosa quando mi distrago stai già dormendo probabilmente ok o ti stai masturbando guarda che ti pixelo tutto allora iniziamo questi miti primo mito nessuno lo fa variazione del mito solo i uomini lo fanno le donne no in realtà vi metto qui le statistiche vere riguardo alla frequenza di masturbazione nei maschi e femmine e lo fanno quasi tutti la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita si masturbano ora riguardo alla frequenza come vedete qui varia nell'arco della vita però piccola parentesi se vi masturbate ok se non vi masturbate ok lo stesso non c'è un obbligo di farlo ed è normalissimo in entrambi i casi secondo mito rovina la vita di copia e le donne se iniziano a masturbarsi con il vibratore poi non hanno più bisogno dei uomini ora prima di tutto non solo le donne usano i vibratori non sono cose che usano semplicemente le donne seconda cosa non solo non peggiora la vita di copia e non significa che se vi masturbate allora tradite il vostro partner assolutamente ma anche effetti positivi riguardo alla vita di copia come abbiamo visto non tutte le volte nell'arco di tutta la vita con un'altra persona si ha voglia di fare sesso il fatto di fare sesso è impegnativo sotto tanti aspetti ed è molto bello però il fatto di masturbarsi è un'esperienza diversa non sono in alternativa per forza di cose quindi non solo ma quando vi prendete del vostro tempo per masturbarvi come dicevamo prima è un investimento anche per migliorare poi le sessioni di sesso perché imparate poi cose nuove riguardo al vostro corpo potete prendervi tutto il tempo per sentirvi a vostro agio senza il disturbo di qualcun altro per quanto l'altro sia una persona adorabile fantastica e tutto il resto ma non c'è sempre bisogno dell'altra persona in mezzo ai piedi o alle gambe poi terzo mito ci sono danni a genitali che si possono fare sì tecnicamente sì dipende quanto velocemente inizia a masturbarti ora danni possibili sì però sai danni possibili li puoi avere anche giocando a scacchi se ti impegni quindi in realtà se a meno che non ci sia una masturbazione eccessiva non ci sono danni ecco un altro danno un danno possibile a cui dovete stare attenti se usate i giocatori assicuratevi che siano puliti altrimenti rischiate magari di prendere infezioni però molte di queste cose dei effetti negativi della masturbazione riguardano in realtà se ci fate caso buonsenso ah il buonsenso questo è sconosciuto quarto mito porta la cecità e le mani pelose davvero devo rispondere a questo porta la cecità no non porta la cecità no a meno che non abbiate una mira così buona non porta la cecità cinque porta infertilità disfunzione erettile ed è colazione precoce questi sono più che altro timori e miti riguardo a legate all'universo maschile continuano ad esserci perché in qualche modo la figura dell'uomo che si masturba è vista come meno virile ed è una cazzata non ci sono problemi non ci sono alcuni sintomi medici legati a questo che riguardano la masturbazione quindi potete tranquillamente masturbarvi non porterà nessun tipo di difetto e la quantità di sperma che avete non è limitato non finirà magicamente a un certo punto quindi usatela tranquillamente masturbatevi anzi come abbiamo visto ha solo effetti positivi poi 6 i bambini non devono e non possono farlo è complicato perché la masturbazione come il darsi piacere toccandosi riguardo nelle parti genitali è qualcosa in parte anche meccanico per cui i bambini già in tenere età imparano che se si toccano nelle parti basse dato che è pieno di nervi legati alla sensazione di piacere provano piacere non è che perché si toccano loro pensano a chissà che posizione sessuale in questi anni c'è molta ricerca riguardo all'ambiente della masturbazione e della sessualità infantile perché fino a molto recentemente era una cosa molto tabù e quindi non c'è stata molta ricerca in questo caso invece nei ultimi due o tre decenni c'è moltissima ricerca che viene fatta per esplorare a pieno la sessualità umana in genere già da bambini quindi se siete interessati link in descrizione poi 7 i grandi non lo fanno solo gli adolescenti lo fanno anche questa è una cazzata in realtà lo fanno tutti come abbiamo visto nelle statistiche c'è questa leggenda che solo gli adolescenti lo fanno perché loro sono ancora inesperti e devono imparare ma è una fase che poi passi e quando sei un adulto non ti devi più masturbare però no in realtà è una cosa che può continuare tranquillamente per il resto della vita c'è una frequenza maggiore durante l'adolescenza quello sì però come tante altre cose non significa che è una cosa che in età adulta non deve o non può succedere poi 8 crea dipendenza e peggiora la salute in generale qui peggiora la salute in generale significa inserire malattie random che avete trovato nell'elenco delle malattie perché tanto più o meno sono state dette quasi tutte riguardo ai effetti negativi della masturbazione in realtà no non ci sono effetti negativi della masturbazione in sé per sé anzi come abbiamo visto ci sono effetti positivi quello che può succedere per quanto riguarda il discorso della dipendenza è che può esserci un atteggiamento compulsivo che è fuori controllo ma succede come nel caso del cibo perché se hai un atteggiamento compulsivo nei confronti del cibo e non riesci a controllare quando mangi e quanto mangi e questo distrugge la tua salute non significa che allora non bisogna mangiare o non fa bene mangiare è la stessa cosa per quanto riguarda la masturbazione masturbarsi fa bene masturbarsi di continua in maniera compulsiva no di nuovo il buonsenso questo sconosciuto poi 9 porta a essere meno sicuri di sé e meno virili ora questo è legato molto all'universo maschile anche se non è solo dell'universo maschile però in realtà è legato molto all'idea che se ti masturbi in qualche modo sei meno uomo perché se sei veramente uomo allora sei in grado di trovarti una donna e altre variazioni su questo tema in realtà poi se ci fate caso abbiamo ereditato anche moltissime parole dispregiative in questo senso che usiamo spesso senza neanche renderci conto o vediamo in giro senza renderci conto di cosa significano pensate a segaiolo segaiolo è un insulto che è dispregiativo proprio su questo tema e anche se non sembra così importante in realtà le parole sono fondamentali perché la nostra cultura viene veicolata attraverso le parole per cui abbiamo bisogno di un'attenzione maggiore riguardo a com'è che parliamo e quali sono i messaggi che ereditiamo all'interno delle parole ed i concetti che usiamo anche perché pensate per esempio a un altro estremo vi faccio questo esempio solo perché è più chiaro ed è già una cosa che abbiamo vissuto un po' in passato la parola negro come dispregiativo ora siamo sensibilizzati a riguardo non ci viene da dire negro no? invece per questa parola ha avuto una lunga storia e segaiolo è allo stesso modo una parola usata come dispregiativo così come ancora oggi sopravvivono moltissime parole dispregiative al tema omofobo per persone omosessuali e così via dobbiamo fare attenzione a queste cose perché poi si insiduano e sono una specie di bulismo passivo molto forte che fa da sfondo fa un po' da rumore di fondo ed è veramente veramente quello che fa la differenza in negativo spesso al di là di come piccoli gesti che si accumulano di cui non ci accorgiamo neanche e come diceva Gandalf per quanto riguarda la capacità di migliorare il mondo sono le piccole cose i piccoli gesti quotidiani che davvero migliorano e salvano il mondo comunque dal punto di vista medico o psicologico non porta ad assolutamente insicurezza o meno virilità l'unica cosa l'impatto negativo che può avere dipende appunto dall'immagine degli altri quindi può avere un impatto negativo dire che ti masturbi ed essere preso in giro da tutti quanti o se viene fuori e vieni stigmatizzato questo è quello che invece dipende da noi questo è l'effetto negativo ma non dipende dal fatto di masturbarsi o no ma dipende da come noi gestiamo culturalmente questa cosa poi dieci e ultima il pene si può piegare o prendere delle direzioni stranissime no in realtà il vostro pene è così di suo non vi preoccupate non c'entra niente il modo in cui vi masturbate con la forma che è il vostro pene e i peni sono belli perché sono diversi infine godetevi appieno la vostra sessualità divertitevi rispettate la sessualità e i gusti degli altri perché appunto la bellezza dell'umanità è anche la diversità dei nostri piaceri dei nostri atteggiamenti a riguardo e noi ci sentiamo la prossima volta con un astrocaffè e voi continuate ad essere meravigliosi come sempre